Allora, il mille, quando viene da andare su, un'esperienza comunque unica, anche perché è stato, insomma, nello scorso, che era più bella che era un spettacolo, insomma, per voi piloni e con tutto quello che è contorno. Sì, devo dire che per me è il primo di San Marino, per me è il primo di casa, perché tra l'altro, quando io sono dedicato a vedere il sacco di Cappelloni di Bristalli, che sono stato già come testimone per la gara di San Marino, quindi è tutta l'estate che c'è il sacco di Cappelloni, è impossibile non pensare a cambiare la gara di San Marino. Questo è veramente contento. Tra l'altro, credo che il Cormone, che è stato citato proprio prima, sia una delle più belle edifici di questo mondo mondiale, io sono un amante delle missioni rossi, quindi il tuo meraviglioso, per me non vedo l'ora che arrivi, è differente da noi che siamo fatti un'altra volta. Io, quando mi rilasso, quando sarò lì dove cerco di aspettare il più attacchi possibile. Devo dire che sono contento di questa gara, perché c'è un bel rumore intorno, faremo un sacco di eventi, parteciperemo a tante cose, tra l'altro è proprio bello perché tantissime persone appassionanti di moto possano vedere i piloti anche da vicino in tutte queste manifestazioni, quello che non è semplicemente il giorno della gara di riuscire alla giornata. Quindi, quello che è sempre invitato a dire in sede, daremo la nostra meglio, faremoci veramente di divertire e io col Marco, purtroppo che io già non ho mai raccordo tanto, speriamo che sia una buona. Ciao a tutti, ci vediamo. Grazie.